Non credo ai miei occhi! Che padre riga le portiere delle macchine? C'è preso per dei selvaggi! La stregoleria è nata in quella caverna! Dopo mio marito è l'uomo che ha contato di più nella mia vita. Buongiorno signora, le volevo dire che suo marito è mio padre. Vado da Mario il pesciventolo, ti serve qualcosa? Sì, un lavoro, grazie. Se vuoi domando a lui. No, 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 no! È il sogno di tutti andare al proprio funerale. Anch'io vorrei abitare in un appartamento come te. Vorrei decidere della mia vita come te. Vorrei essere normale come te. Siete inglesi? Sì. Siete inglesi.